Procedure di insediamento questa mattina nelle 1633 sezioni sparse in Abruzzo dove a partire dalle 15 di oggi fino alle 23 e dalle 7 fino alle 23 di domani si potrà votare per il rinnovo del Parlamento europeo. 76 membri da eleggere spettanti all'Italia. Ma in questa tornata elettorale è previsto anche il rinnovo dei consigli comunali in ben 98 comuni della nostra regione, tra i quali quelli oltre i 15.000 abitanti e tra questi la città di Pescara. Già da questa mattina i presidenti di seggio hanno costituito all'interno della propria sezione l'ufficio elettorale ricevendo il materiale occorrente composto da schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, le urne, le cabine e tutto il materiale di cancelleria. Si è poi proseguito con la vidimazione delle schede qui a Pescara sia quelle arancioni per le europee che azzurre per le comunali. Una volta terminate queste operazioni le sezioni vengono chiuse per poi riaprire qualche minuto prima dell'inizio delle elezioni previsto per le 15. Ricordiamo che tra i vari compiti del presidente di seggio, chiamato a garantire la perfetta regolarità delle operazioni di voto, anche la nomina eventuale di nuovi scrutatori in caso di assenza di quegli assegnati, la nomina del vicepresidente di seggio, l'accreditamento dei rappresentanti di lista. A partire poi dalle 23 di domani sera, quando non sarà più possibile votare, si procederà all'autenticazione delle schede facendole firmare dagli scrutatori e apponendo il timbro prima di procedere allo scrutinio che sarà inizialmente riservato alle europee. Una volta terminato si procederà allo scrutinio per le amministrative. E a proposito di vecchie e nuove consuetudini è accaduto in diversi casi questa mattina che alcune persone si siano presentate già a votare, non essendo evidentemente abituate all'apertura pomeridiana dei seggi.